Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è domenica 27 marzo 2011 ed eccovi qua il video che vi avevo promesso 7, 8, 10 giorni fa. Israele, Iran, silenzio assordante. Eh sì, perché stranamente da quando è iniziato questo terremoto nel Nord Africa e come dire cari amici, nel Nord Africa e anche diciamo così nel Medio Oriente stranamente Ahmadinejad non ci ha più detto niente, tutto tace dall'Iran e anche Israele non ha detto niente. Allora io questo lo definisco un silenzio assordante e gli dice ma che cosa succede mai? Ahmadinejad era sempre pronto lì a fare le sue uscite e adesso tutto tace. Con questo po' di, scusate, casino che succede nel Nord Africa e nel Medio Oriente dove i giovani, sono i giovani che stanno a fare la rivoluzione e buttano giù i governi e ci rieschino pure, ci rieschino. Boh, non dicono niente, non dicono. Ma ne è l'Iran e ne è la... ma è Israele. Boh, diamo un po' a vedere. Prima di tutto io vorrebbe riproporvi un grafico che avevo già riprodotto in un video che voi non avete onorato per niente. Un video intitolato Questioni demografiche dal 1861 ad oggi in Italia. Voi non l'avete onorato quel video, vabbè, peggio per voi, va bene? Ora, eccolo qua il grafico, cari amici. Questo qua sono meravigliosi grafici pubblicati dalla stampa, dal quotidiano torinese della stampa, di domenica 13 marzo 2011. 13 marzo, quindi 14 giorni fa. Vedete questo grafico? Quella cosa ho già inviato, eh? Allora, guardate un po' questo grafico qua. Lo vedete quanto è bello? Quanto è regolare? Guardate quanto è regolare questo grafico qua. Lo vedete? Ecco, questo è il grafico che rappresenta e la distribuzione della popolazione italiana nel 1861. Voi diremo, ma che c'entra il grafico sulla popolazione italiana nel 1861 con un video di Israele e Iran? Silenzio assordante? Vabbè, cari amici, ma che volete? Io con la panchetta magica attacco e faccio uscire i piccioni da danci lì? Andiamo, eh. Seguiamo il ragionamento, seguiamo, d'accordo? Lo vedete quanto è bello, cari amici? Guardate che ordine. C'è una base bella larga e poi piano piano si sale ordinatamente se da quando si arriva, non è una cuspide, ma insomma, e qua la popolazione campava pure allora e qua c'è scritto che si va oltre i cento anni. Soltanto che allora, vedete, la base? E c'erano tantissimi, tantissimi giovani! Dio quanto ce n'erano dei giovani nel 1861 in Italia! E poi, mano a mano che passavano gli anni, i giovani invecchiavano, morivano mano a mano e poi i quelli che campavano erano sempre di meno, sempre di meno, sempre di meno. Tenetemelo bene in mente, cari amici, questo grafico. È dell'Italia nel 1861. Va bene! Vedete che regolarità che c'è? Come era distribuita la popolazione? Adesso guardate questo mostro qua. Lo vedete questo mostro? Guardate che mostro, cari! Vedete? La popolazione italiana, com'è nel 2010? Guardate che mostro! Vedete? La base, sì, è larga, ma non è una base capace di tenere in piedi un po' questo mostro perché vedete come si allarga, come si allarga lì verso l'età media. Guardate qua che mostruosità! Questa è la popolazione perché noi in Italia oggi abbiamo, contrariamente a quello che avveniva qua, che c'erano tantissimi giovani, tantissimi giovani e pochi anziani, pochi, qua in questo mostro, che poi in tutti i paesi dell'Occidente è così, vedete? Giovani sì, ma quelli di mezza età o di terza età, guardate quanti sono, guardate! Poi lassù verso i cento anni si distringe, ma guardate lì, tra i 40 e i 50 anni che mostruosità! Non c'è nessuna armonia, guardate che schifo! Questa è la nostra civiltà, vedete? Guardiamo qua! Guardate, cari, che ordine nel 1861, 150 anni fa! Bene, questa situazione, che noi avevamo in Italia e anche in Europa, in Occidente, 150 anni fa, noi la ritroviamo pari, 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 in tutti i paesi che stanno al di fuori dell'Occidente, del UEFA, pari, pari, in specie nel Nord America e nel Medio Oriente, tanti, tanti giovani e pochi, 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 pochi di mezza età o di terza età, ecco, questo grafico qua, che è dell'Italia, della popolazione italiana del 1861, lo potremmo trasferire pari, pari, a rappresentare la popolazione dei paesi del Nord Africa, dell'Africa, del Medio Oriente, della Centro America, della Sud America, vedete che ho, tanti, tanti giovani, tanti giovani, tanti giovani, e siamo capiti? Questi giovani pure, tra l'altro, hanno pure internet adesso, fermatevi voi giovani di 15 anni, 16 anni, quando inizia, 14 anni, inizia l'età della pubertà, fermatevi voi questi giovani in Medio Oriente, in Medio Oriente, dove c'è un certo controllo di quella che si chiama morale sessuale, fermatevi voi se ci riuscite, ma manco con i cannoni ci riuscite, e a capire a questi giovani, nel pieno della loro esplosione ormonale, sessuale, gli fate vedere quello che fa vedere Inter, che ci sono i siti porno, e che siti porno, siti porno, siti porno, dove le cose le vedi tutte integrali senza spendere manco la... e questi te vedono, questi giovani qua, questi giovani, vedete quanti sono in basso i giovani, questi giovani, e sopra, mano a mano che sali, e la gente diminuisce sempre di più, vedete come si stringe, va su, 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 e sono questi giovani che mettono un modo in Nord Africa, al Medio Oriente, sono poveri, sì, ma hanno Internet, sono poveri, sì, ma hanno Internet, capito? io per esempio, ieri ho letto, proprio ieri, sulla stampa di ieri, un corripondente, mi dispiace di non averlo sotto mano, quando era la stampa di ieri, un corripondente, che parlava con i giovani ribelli, e uno diceva che si era lavorato in Florida, in Florida, non in Florida, in Florida, io tra me e me pensavo, cavolo, questo qua è della Libia, nella Libia, sotto il tiranno, sotto il tiranno, si è lavorato in Florida, poi c'erano altri di ribelli, laureatichi, informatiche, io, io, su il tiranno, si laureano pure in informatica, diceva tra me e me, diceva, e magari non hanno manco dovuto fare il fornaio come me per laurearsi, su il tiranno, e vabbè, e per fare questa premessa, adesso, chiaro la miscela qual è? Tanta bella gioventù, e Internet, a disposizione, perché lì, pure se stanno nella giungla, nel deserto, ce l'hanno il pc, ce l'hanno i telefonini, e sono capace di usare di meglio di me i telefonini, ci fanno pure i video, ci fanno, e li vedete i migranti, no? Quando scendono lì a Pantelleria, a Lampedusa, come si chiama, a Lampedusa, a Pantelleria, e ci hanno tutti i cosi, i cellulari, fanno i video, io non sono capace di fare i video, fanno i video, ti portano in Italia tutti i video di quello che è successo in Tunisia, pensa un po' a te, va bene, meglio per loro, meglio per loro, adesso, fermiamoci un minutino, fermiamoci un minutino, perché io vorrebbe onorare che l'amico è il guerrigliero sardo, perché lui, si vede che ha seguito i miei ultimi video sulla Libia, e gli sono piaciuti a questo simpatico ragazzo che si chiama il guerrigliero sardo, il guerrigliero sardo, mi sono piaciute alcune mie considerazioni che di solito non si leggono sui giornali, non le leggete sui giornali, vediamo un po'. Allora, adesso abbiamo l'attacco dell'Occidente democratico al tiranno della Libia. Io ho sempre detto che questa stessa logica per cui l'Occidente guidato da Sarkozy ti va a bombardare il tiranno della Libia, dovrebbe valere pure per quello che da 15-20 anni a questa parte accade in Cecenia. Sono fatti contemporanei e in Cecenia il mio amico Vladimir Putin, mi è simpatico Vladimir Putin, sapete? Perché Vladimir Putin ha ereditato tanta mafia da Boris Yeltsin e adesso ce n'è ancora tanta con Vladimir Putin, ma ce n'è di meno! E beh, mica poteva farli sparire subito i mafiosi russi Vladimir Putin, non è mica facile, non ci siamo riusciti neanche noi in Italia a far sparire Camorra, mafia, andrà anche da Sacra Corona Unita, non vedo perché si debba richiedere a Putin di compiere questo miracolo. Ce n'è un po' di meno con Vladimir Putin di mafia russa di quanta ce n'era ai tempi di Boris Yeltsin e Corvo Bianco o di quanta ce n'era già formata ai tempi di Gorbaciov. Ce n'è un po' di meno, mi è simpatico, cosa volete che vi dica? Però Vladimir Putin, anche se mi è simpatico perché ne ha fatta fuori parecchie o parecchie di mafia russa, ce n'è ancora, ma di meno. Fatevi voi i miracoli se ci riuscite, va bene? E sono 15 anni che Vladimir Putin massacra la Cecenia e anche alcune regioni circostanti alla Cecenia, la regione del Caucaso, la massacra. Per i Ceceni Vladimir Putin è come per i Cirenaici, quelli di Benghazi, che dà un tiranno! Un tiranno! Perché i tiranni dipende dai punti di vista, capito? I punti di vista, perché quindi sono 15 anni che pensate, mi putti martellano di brutto i Ceceni e anche le regioni circostanti sono stati di cuscinetto e via di seguito. Ne succedono in tutti i colori in Cecenia, ma non da un mese come in Libia lì. No, da 15 anni, forse 20 anni, andate a visitare Cecenia, Cecenia, Russia, Cecenia, e vedete un po' cosa vi salta fuori. Non mica mai si è formata la coalizione occidentale per andare a tagliare le unghie a Vladimir Putin, Sarkozy, che guida, si chiama la coalizione dei volenterosi, non dei responsabili, dei volenterosi, bella coalizione che incontro Vladimir Putin. Le condizioni sono simili, perché per i ceceni Vladimir Putin è un tiranno molto, 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 molto più tiranno di quanto lo sia il colonnello Gheddafi per quelli della Cirenaica. Capito? Perché quando i ceceni ricevono le bombe sulla testa da Vladimir Putin è un tiranno, è un tiranno perché soffoca la libertà della Cecenia e anche gli altri. ma perché non c'è andato Sarkozy o chi c'era al posto suo perché non c'è formata una bella coalizione dei volenterosi per andare a bombardare un po' Mosca? Perché? Le condizioni sono le stesse, sono le stesse. Chiaro? Insisto, dice, per i ceceni, guardatemi il Putin è molto più tiranno che Gheddafi. Sì, 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 mi dispiace per voi ma è così. Perché non c'è andato? perché c'aveva paura, c'avevano paura della Russia, capito? C'avevano paura e la Libia di Gheddafi non è mica la Russia di Vladimir Putin, non si scherza mica con la Russia. se ci provi a toccare la vedi tu che ti succede. Eccola qua la morale, eccola qua la morale. Però io vi avevo fatto, per cui mi ha scritto poi questo simpatico ragazzo qua, il guerrigliero sardo, il guerrigliero sardo. E poi vi avevo anche detto, cari amici, vi avevo fatto notare il caso dell'Irlanda. Sì, 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 è vero adesso che quasi tutta l'Irlanda è libera, solo un pezzetto, l'Alster è rimasto in mano a Londra. Ma perché diventassero i tre quarti dell'Irlanda diventassero liberi? Ci fu una guerra secolare, 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 andate a vedere la storia dell'Irlanda. Secolare! Perché Londra non la voleva mollare e l'Irlanda, capito? Ma che guerra secolare addirittura! Poi alla fine dovete scedere e dette la libertà ai tre quarti dell'Irlanda. L'ultimo quarto che sta a nord, l'Alster è ancora sotto la corona britannica. Vogliamo continuare? Sapete cosa successe in Italia? Visto che da poco abbiamo festeggiato il 17 marzo 1861 quando fu proclamato il Regno d'Italia, subito dopo la programmazione del Regno d'Italia, in Italia ci fu una guerra civile. Se ne parla molto poco perché si parla così qualche scaramuccia contro i briganti meridionali, ma se voi andate a leggere i veri libri di storia e vi ripeto andatevi a leggere il libro del grande storico inglese Dennis Mac Smith storia del risorgimento italiano e quella fu una vera guerra civile, un vero e proprio massacro! E allora non c'erano le tv, cari, non c'erano le tv, non c'erano i fotoreporter, le televisioni, ma ci sono le documentazioni che sono rimaste, cari amici, la chiara amare la guerra contro il brigantaggio e non si mosse mica nessuna potenza europea a bombardare i Savoia perché schiacciavano i ribelli dell'Italia meridionale, schiacciavano i ribelli dell'Italia meridionale, fu una vera guerra, cari, andate a informarvi, andiamo, se non è apposto a fare un video di 200 ore, andate a informarvi, non lo conoscete meglio di me il web, no, andate a questa voia e briganti meridionali, li chiamarono i briganti, li chiamarono i briganti, beh, anche Vladimir Putin potrebbe chiamare quelli della Cecilia i briganti, capito? Poi io voglio far osservare un'altra cosa, dopo arrivo al guerrigliero sardo, mi voglio far osservare un'altra cosa, vi ricordate quando c'era ancora in Italia un stato pontificio? vuole sapere che io vi ho sempre detto che purtroppo io sono ateo, quindi non c'è niente a che spartire con lo stato pontificio, no, c'era lo stato, cioè, il Papa aveva il potere temporale che andava da Roma, andava all'Adriatico, andava su, 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 arrivava su, su, vici presso Rimini, Ravenna, insomma, si spostava, c'era l'Asio, c'era l'Abruzzo e il Molise, c'erano le Marche, eh, era uno stato autonomo, era uno stato autonomo, uno stato, come si dice, uno stato sovrano, e beh, e se voglia, non l'hanno forse invaso? O, chi ve lo dice è un ateo, quindi non potete pensare che io simpatizzi per il Santo Padre, no, sono un ateo, quello fu, fu una violazione di uno stato sovrano, l'invasione di uno stato sovrano, eh, chiaro? E mica si formò una coalizione europea, internazionale per, per, per bombardare i Savoia, eh? Adesso il guerriero sardo vuole rinfrescare la mia moria, la mia memoria senile e mi dice, ma ricordali, ricorda i giovani, oltre a quello che hai già ricordato, ricorda, per esempio, a quello, a quello che è successo, e, per esempio, mi dice, mi ricorda l'Etiopia, l'Etiopia, era un grande impero, l'Etiopia, era un grande impero, cristiano, cristiano, un grande impero cristiano, il povero Duce, invase, l'Etiopia, stato sovrano, da tantissimo impero, cristiano, l'ha invase pure coi gas, coi gas, l'ha invase pure coi gas, l'ha invase, sì, sì, la società delle nazioni, varò delle sanzioni economiche contro l'Italia, ma la società delle nazioni mi chiamando avanti un gruppo di nazioni volente rose per bombardare Roma, e in fin di conti, l'Italia invadeva l'Europa, invadeva l'Etiopia, che era un grande impero cristiano, però era pur sempre uno stato occidentale, no, al massimo, al massimo, gli facciamo delle sanzioni economiche, mica si permise, ne dà, e poi stava in Africa, l'Etiopia stava in Africa, ma gli se ne prega, e che andiamo a litigare con l'Italia, che fa parte della nostra stessa famiglia occidentale, se ne sanzioni così, tanto per, come dire, per sciacquarsi la coscienza, che ricordate, l'Italia cattolica, che andò, che andò a, a violentare uno stato sovrano, un impero millenario, cristiano, non cattolico, ma cristiano, c'erano la croce pure loro, capito? In Etiopia, ce l'hanno pure oggi, in Etiopia, e finché pure la società delle nazioni che parola le sanzioni economiche, e vabbè, e vabbè, andiamo a parare delle sanzioni economiche pure in Pochettati, invece di mandarci i missili, allora, e poi mi ricorda il guerrillero, qual guerrillero dice la Spagna, e in Spagna, e, e, quello che successe tra i franchisti e i rivoluzionari spagnoli, e, mica venne parata una, 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 una crociata, che so, una crociata di volent, volenterosi che andassero a bombardare Francisco Franco, ma che, ma che, ma che, e poi mi ricorda pure i fatti della Grecia, dove, i, i, gli angloamericani sostennero varie forme di dittatura dopo la Seconda Guerra Mondiale, certo, ci avevano parola che, 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 che arrivassero i, i comunisti, l'armata rossa, e vabbè, ma, però, però, pure lì c'erano i greci che dicevano i belte, i belte, i belte, i belte, i belte, e gli angloamericani invece sostenero i cosi, di putellarmi i dittatori sino alla dittatura dei colonnelli, ecco, caro amico, il guerrilero sardo, tu l'hai capita l'antifana, tu l'hai capita, ma tanti amici miei, purtroppo, mi dispiace, non vi offendete, non l'hanno ancora capita, che si dice, vè victis, guai ai vinti, vè victis, i vinti non devono mai parlare, la parola sta nelle mani dei forti, e quegli stessi forti che oggi bombardano, i forti, i forti, i forti che oggi bombardano con il Gheddafi, col cavolo, col cavolo, che vanno a bombardare Putin, col cavolo, cari amici, vè victis, cari, guai, non vi sognate poi di far parte di una nazione che è al di fuori dell'Europa, che sta nel terzo mondo, perché quella nazione lì può essere sempre bombardata in qualsiasi momento, capito? Bene, fatta questa premessa, adesso però devo continuare ancora un discorso, prima di entrare nel cuore, voi siete giovani, è necessario che ascoltate una persona anziana, qualcuno mi ha detto che lui è giovane ed è più saggio di me, ma io sono contento se un giovane è più saggio di me, però come norma la saggezza viene con l'età, cioè non è un merito, se io ho 71 anni ho più saggezza magari di voi, magari, ho 71 anni, aspettate a parlare della vostra saggezza e a confrontarla con la mia, quando pure voi avrete 71 anni, d'accordo? in fin di conto la saggezza non è mica niente di particolare, la saggezza altro non è che il ricordo di tutti gli errori compiuti nel corso della vita, e voi essendo giovani di errori di certo ne avete compiuti meno di me, capito? e allora parliamo pure un po' della questione, della questione cari amici della Libia e della democrazia vi di seguito, dunque cari amici, cari amici, amici mia, il fatto è che in occidente abbiamo una forma di legittimazione del potere, che noi chiamiamo la democrazia con tanto di possibilità da parte di tutti i cittadini, si chiama suffragio universale ad andare a votare, comprese le donne, che tra l'altro le donne in Italia hanno avuto diritto di voto soltanto il 2 giugno 1946, 1946, le donne turchi ce l'hanno avuto prima delle donne italiane, capito? La civile, la civile Italia, il voto alle donne dove c'è la Madonna Santissima, la Vergine Santissima, la civile Italia, il voto alle donne gliel'ha dato soltanto il 2 giugno 1946, perché ci stavano le armate anglo-americane in Italia, sono le armate anglo-americane che ci hanno dato la democrazia, capito? A soldi bastonati, ci hanno liberato dalla nazi fascismo, però vedete gli americani, dice no, no, suffragio universale, eppure le donne, perché in Turchia gliel'hanno già dato, e sono turchi, so, che bestemmino come eri turchi, eppure le donne votano già in Turchia, capito? E allora noi le forme di legittimazione del potere, e sono caratterizzate dal voto, dalla scheda, arriva una scheda elettorale a casa vostra, bella la scheda elettorale, no? Dopo voi andate al seggio elettorale, vi nascondete dentro un paravento, lì mettete la vostra cucita, poi chiudete tutto bene, tutto bene, andate a mettere tutto dentro l'urna, salutate i membri del seggio elettorale, e vi siete tornati a casa tutti felici e contenti, e il fatto è che dopo che voi avete votato, le cose dopo continuano come prima, se non peggio di prima, perché il livello del vostro portafoglio non aumenta neanche di un millesimo di un millimetro, quello per quello di voi, insomma, coglioni eravate quando avete votato, e coglioni restate pure dopo, mi dispiace dire queste cose, cari amici, questa è la nostra forma di legittimazione del potere, abbiamo lottato tanto per arrivare a questo, però vedete voi, cari, che le differenze economiche non si sono modificate per niente, per nulla, non c'è nessun altro, non è che dal Medioevo, oppure dal periodo delle monarchie assolute ad oggi, le differenze di distribuzione della ricchezza dentro i singoli stati sia diminuito, non è diminuito, Sì, nel Medioevo c'erano i servi della grippa, i servi della grippa, pensate voi che i servi della grippa stessero peggio degli operai delle catenze di montaggio di Pomigliano d'Arco? Pensate voi che stessero peggio? Ma pensate voi, pensate voi la tristezza di un operaio delle catenze di montaggio, tanto per fare l'esempio, e me lo ricordo, Pomigliano d'Arco, mi piace questo nome, Pomigliano d'Arco, che oltre a stare alla catena di montaggio, io li onoro, gli operai, li onoro, lavoro manuale, il nobile lavoro manuale, altro che il lavoro intellettuale, però pensate alla loro tristezza, e a quanti cancheri devono mandare a politici buoni come Nighi Vendola, il quale dice che è un politico buono, però si prende, e vi ho letto recentemente la documentazione, si prende 15.000 euro netti al mese per fare il governatore delle lontane Puglie, e invece un operaio metalmeccanico che riconosce in Nighi Vendola il suo santo protettore, e invece di prendersi 15.000 euro al mese netti come Nighi Vendola, grande poeta, deve accontentarsi di 1.200 euro al mese, anche se c'ha moglie e figli. pensate voi quante maledizioni, e poi non sanno a chi rivolgersi, perché gli operai metalmeccanici mica si possono rivolgere a Berlusconi, dicendo che si rivolgiamo a Vendola, però lo fanno il conto, la differenza della paga, capito? E voi pensate forse che gli operai metalmeccanici delle cadene di montaggio stiano peggio dei servi della gleba? Ma guardate che è tutta una storia il fatto che i servi della gleba stessero male, sapete? bisogna informarsi che poi lo star bene o lo star male e tu lo devi considerare in relazione al tempo in cui vivi. Sarebbe come dire che noi siamo più felici che so, dei poveri popoli primitivi che abitano l'Amazonia, dove sta scritto? E l'antropologia strutturale dove la mettete? Sapete cos'è l'antropologia strutturale? Ecco la forma di antropologia che vi ha detto che non si possono fare i confronti tra le civiltà perché ogni civiltà è qualcosa di armonico in se stesso. Là, le cose dagli indios, là, del rio dell'Amazoni non hanno bisogno del Servizio Sanitario Nazionale. Loro hanno tutte le loro erbette lì lungo il rio dell'Amazoni. Non hanno bisogno di venire aiutati da noi. Siamo noi che vogliamo andare a aiutare loro così come ha detto Walter Bertroni due o tre anni fa ha detto voglio andare a far del bene in Africa ma non ti vergogni Bertroni la tua età di certe scemenze voglio andare a far del bene in Africa ma non ce n'è attorno a Roma del bene da fare solo che è andato a far del bene in Africa in Africa e ti dà tanto onore tutti parlano Walter Bertroni è andato a far del bene in Africa ma fallo lì nella periferia romana al bene fallo lì allora ti dicevo che le nostre forme di legittimazione del potere sono queste sono queste qua tu sabato come me prendi la tua brava schietta elettorale vai lì al seggio elettorale tutto felice e contento magari vestito belle butti giù la schietta e poi tutto continua come prima o peggio di prima e tu sei più coglione di prima non è cambiato niente io ve l'ho già detto ho 71 anni quante lezioni che ho visto quante ho fatto quante sul piano economico non è mai cambiato niente ok mai 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 che ci fossero governi di centro-destra governi di centro-sinistra mai io non ho mai visto niente ricevevo la mia paga prima di insegnanti di filosofia e storie nei riccei poi di preside di volo nei riccei classici e scientifici ma la mia retribuzione non era una variabile dipendente dai governi era una variabile indipendente andava avanti c'erano gli scatti di carriera e questo per tutti i lavoratori e per tutta la gente queste sono le nostre forme di legittimazione del potere abbiamo lottato tanto per arrivarci ma è stato soltanto come dire una un sogno un sogno perché le differenze economiche non sono cambiate e i magnati gli stanno pure oggi no? non vedete che abbiamo ancora Berlusconi Silvio Berlusconi Carlo del Benedetti non è il padrone di un grande gruppo giornalistico un capitalista buono Carlo del Benedetti è strarico però fa i giornali che vengono comprati dai poveri i poveri i poveri comprano i giornali del gruppo editoriale la Repubblica l'Espresso e poi tutti gli altri giornali provinciali perché ci sono tanti quotidiani locali Carlo del Benedetti è un buono capitalista buono per cui gli pubblica stampa i giornali buoni che sono scritti dai giornalisti buoni e che vengono comprati dai cittadini buoni lui è un capitalista buono allora ci sono sempre i capitalisti ovviamente divisi tra capitalisti buoni e capitalisti cattivi Carlo del Benedetti è un capitalista buono Silvio Perusconi è un capitalista cattivo però le differenze non sono mai cambiate d'accordo? oh invece come avviene la legittimazione del potere in Libia te l'ho già detto ma lo devo ripetere poi arriviamo al silenzio assordante di Israele e Iran come avviene la legittimazione del potere in Iran e in tutte queste zone che potremmo chiamare sì e no zone tribali niente di male tribale 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 deriva da tribù l'antica Roma la Roma tutto si basava sulle tribù io ci ho detto no? tribuno il tribuno era una sorta di colonnello nell'esercito va bene poi c'era il tribuno della breve che era una specie di sindacalista di oggi comizi tributi tutto legato alle tribù e allora in Libia tutto la legittimazione del potere è nelle mani delle tribù è la maggioranza delle tribù che stabilisce chi deve governare vediamo allora di approfondire il discorso sulla Libia la Libia sino al 1910 1911 non c'era la Libia il territorio di quella che noi conosciamo Libia che è la Tripolitania dove c'è Tripoli la Cirenaica dove c'è Benghazi e poi il Fezzan erano tre province tre province cioè tre regioni dell'impero ottomano impero turco turco ottomano che nel 1800 veniva chiamato il grande malato perché era in via di disfacimento e tutti se ne approfittavano dell'impero ottomano Francia Inghilterra rosicchiavano province di qua e di là a un certo punto l'Italia in 1911 in 1912 dice beh approfittiamone pure noi e lì ci sono quelle tre aree sotto l'impero ottomano e ce le andiamo a prendere quelle tre aree erano non erano la Libia erano tre aree che si chiamavano Tripolitania Cirenaica Fezzan gli italiani a conquistare queste tre aree le unificarono in una ampia regione in un stato che loro gli italiani chiamarono Libia perché effettivamente lì nell'antico passato quella regione era chiamata dagli storici Libia nell'antico passato poi con l'impero con l'impero arabo arabo nelle sue varie forme poi l'impero turco ci fu una diversa ripartizione territoriale e quindi gli italiani a mettere insieme Tripolitania Cirenaica Fezzan ma non è che si potessero vedere di Bonocchio e quelli della Tripolitania e quelli della Cirnaica per niente li misero insieme in un unico stato diciamo così una colonia la colonia della Libia e lì l'assetto è tribale tribale cioè l'assetto si basa sulle tribù la legittimazione del potere lì non avviene come da noi in occidente con la scheda elettorale e con il suffragio universale no questi sono i capi tribù che determinano chi è che deve avere il potere sia esso un re o sia esso un presidente della Repubblica di seguito il fatto sta che dopo la seconda guerra mondiale quando noi perdemmo la Libia in Libia ci fu la monarchia e la monarchia il monarchia veniva dalle tribù della Cirenaica cioè di Bengasi nel 1969 ci fu il colpo di stato del colonnello Gheddafi il quale retronizzò il monarchia di allora che veniva dalle tribù della Cirenaica e lì prese il potere con l'appoggio delle tribù della Cirenaica della Tripolitania cioè di Tripoli e con l'appoggio delle tribù a maggioranza della Tripolitania Gheddafi è rimasto al potere per 40-41 anni cioè sino ad oggi ma questo è il loro modo di gestire il potere tenete presente che questi paesi tribali in fin di conti ancora non sono andati a cannoneggiare i paesi occidentali capito questi paesi tribali sono sempre stati per centinaia e centinaia di anni se ne stavano tranquilli per conto loro questi paesi tribali si facevano la guerra fra di loro con le frecce e siamo noi che siamo andati a colonizzarli e dopo che li abbiamo colonizzati abbiamo loro venduto le armi leggeri e pesanti con le quali adesso loro in Africa in Medio Oriente se fanno la guerra capito le produciamo noi le armi e loro non ci pensavano per niente a venire a colonizzare noi capito noi buoni occidentali prima li abbiamo colonizzati e conquistati eccetera dopo ci abbiamo fatto i commerci e abbiamo venduto loro tantissime armi anche per cui quei popoli lì lì al Congo eccetera che una volta si facevano le guerre con le frecce adesso se ne fanno quei cannoni i nostri cannoni capito questa è la nostra civiltà ma bisogna riflettere su queste cose cari sapete perché nessuno di noi è pulito siamo tutti conniventi cari sapete solo che facciamo finta di non saperle queste cose d'accordo cari vabbè vabbè e adesso arriviamo un pochettino al cuore ma ci voleva questa premessa cari e perché la premessa la premessa serve ad evitare che voi mi facciate dei commenti poco 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 precisi vi ho fatto la premessa e non ve la dimenticate la premessa non è che arrivate alla fine del video e vi attaccate soltanto una frase perché non vi piace quella frase lì è un tassello in un mosaico il mosaico è il video dall'inizio alla fine e voi prima di tacchete di fare il commento tacchete quella frase ma no quando si guarda un mosaico mica ci si ferma lì a fare i cosi pignoli sul tassello si guarda il mosaico nel suo insieme poi si può dire beh il mosaico mi piace d'accordo però quel tassello lì non mi piace capito non cominciamo su questa tv piccola tv pubblica è fatta per aprire le menti d'accordo e allora arriviamo all'oggi arriviamo all'oggi oggi agli ultimi 30-40 giorni perché questo silenzio assordante dura da tanto tempo da quando sono iniziata la rivolta del pane del pane del pane in Tunisia ben alì via poi in Algeria il fuoco cova sotto la cenere ancora in Algeria in Marocco poi Mubarak Egitto ormai sono pagato 40-50 giorni adesso vedete scusatemi la parola il casino che sta scoppiando in sedia qui li vedete sono tutti giovani non si fa altro che fare facebook facebook tutti giovani i vecchi se ci sono ci vanno appresso i giovani e bloccateli voi giovani ti ripeto con tutto tutto lo sviluppo ormonale ormonale che hanno la possibilità col pc di vedere tutto tutto come si vive all'occidentale e loro lì devono stare che so con le loro ragazze moglie tutte imbaguccate lì con quelli che te guardano è brutto si ricomporre invece vedono come si sta bene nel mondo occidentale ci sono le tonine che fanno vedere le gambe fanno vedere tutto vedono come si vive a Manhattan come si vive a Parigi come si vive a Parigi in Champé-Élysée Champé-Élysée va bene e quando gli fai vedere queste cose i giovani e ti fanno la rivoluzione e vogliamo vivere pure noi come in Occidente e sono tanti i giovani capito magari i personal computer e Inter ce l'hanno pure i poliziotti che difendono i regimi e come fanno voi i poliziotti a sparare sui giovani magari i poliziotti sono giovani pure loro e vogliono anche loro le stesse cose che vogliono i ribelli allora c'è tutta una rivoluzione tutta una rivoluzione però attenzione che qui arriva il punto stranamente la rivoluzione delle rivolte rivolte del pane rivolte di qua rivolte di là sta toccando il mondo arabo ma quale mondo arabo? è perché il mondo arabo si divide in mondo arabo sunnita e il mondo arabo siita e c'è una bella differenza tra un musulmano sunnita e un musulmano siita e c'è la stessa differenza che c'è tra un cristiano cattolico e un cristiano protestante i cattolici e protestanti a dir poco si detestano a dir poco cristiani cattolici e cristiani protestanti si detestano e così gli islamici sunniti e gli islamici sciiti si detestano al punto che la scorsa estate nell'estate del 2010 io vi ho piazzato dei video per dimostrarvi che i paesi arabi sunniti sunniti come Arabia Saudita Emirati Arabi e pure Giordania avevano fatto un accordo con Israele e avevano detto ad Israele Israele quando vorrai bombardare l'Iran sciita passa pure per i nostri sciiti così c'hai la strada più comoda cioè gli islamici sunniti hanno più paura degli islamici sciiti che non di Israele che non di quegli infamoni di Israele ma quanto ma come fate voi non le sapete queste cose vero ve le siete già dimenticati i video vero dove vi ho vi ho spiegato questo patto tra Israele Arabia Saudita Emirati Arabi e Giordania dove questi paesi arabi sunniti cedevano il transito sui loro sciiti agli aerei di Israele dicendo quando tu Israele vorrai bombardare l'Iran sciita che Dio gli sta maledica di sciiti passa pure sui nostri sciiti ma ve ne siete già dimenticati quelle cose cara a voce di colui che parla nel deserto che urla nel deserto vediamo un po' quali sono i paesi sunniti sunniti i paesi sunniti senza andarci a fondo qua nelle questioni religiose sono quelli un po' più tranquilli cioè l'islamismo sunnita è un po' più realista d'accordo magari nei paesi islamici sunniti c'è più spazio per le donnine allegri capito quelle che ballano nel salum c'è più spazio sono più tranquilli sono più attaccati alle cose mondane i paesi sunniti quelli un pochettino più 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 mondani va bene un po' più mondani i paesi sunniti sono Marocco Britannia Cedria Tunisia Libia Egitto Tokia Arabia Saudita Emirati Arabi Emirati Arabi e poi pure un po' in Afghanistan come vedete bene i paesi sunniti stanno tutti verso l'occidente non stanno là verso l'Oriente stanno spostati verso l'Oriente d'accordo vedete da Marocco c'è l'Arabia Saudita gli Emirati Arabi la Turchia la Libia l'Egitto l'Algilia la Maurizia nel Marocco capito si va dal Medio Oriente verso l'Occidente qua c'è non mi fate dire in quel paese no no grosso modo è così i sunniti vanno dal Medio Oriente sino all'Oceano Atlantico e i sunniti sono quelli più l'islamismo più bonaccione più godereccio quello che non inallegre i porno i porno più piccino gli vanno bene d'accordo invece nei paesi islamici sciiti non ce ne sono di insurrezioni sì c'è stata l'insurrezione verde dei giovani iraniani pure i giovani iraniani e pure per i giovani iraniani vale questa piramide cioè pure per l'Iran e per gli amici vale questa piramide anche per l'Iran e quanti sono i giovani iraniani quanti sono i giovani iraniani pure loro hanno il PC è solo che lì c'è una teocrazia capito e la teocrazia è peggio dei cari armati perché se tu vai contro il regime iraniano è come se tu andassi contro Allah e ti metti la pena di morte o anche cose ancora peggiori in galera e invece Libia non è una teocrazia capito dietro il colonnello non c'è Allah mentre dietro Ahmadinejad c'è Allah e dietro Gheddafi non c'è Allah sono cose diverse sono capito e in Iran se un giovane si ribella va direttamente contro Allah per impedire che i giovani si ribellino e che vadano contro Allah e in Iran ci stanno i baci altri giovani fanuloni che siccome non hanno voglia di lavorare entrano tra i baci i baci quelli che vanno in giro in bicicletta e col manganello vanno in giro in motocicletta no anch'io che nascevo in Iran poniamo che non avessi voglia di lavorare facevo i baci il loro vestito è quello di andare in giro con motocicletta e col manganello contro i giovani protestanti che protestano e allora invece l'Islam sciita quello sempre incazzato chiaro non godereggio dei sunniti no gli sciiti sono sempre incazzati d'accordo sempre incazzati sono Iraq anche se in Iraq c'è una bella percentuale dei sunniti però ci sono di più Iran l'Iran poi e poi Afghanistan va bene anche se in Afghanistan c'è c'è una metà e metà però nell'insieme il mondo arabo sunnita quello buonaccioni godereggio godereggio sta dal Medio Oriente poi verso Occidente arriva sino all'Atlantico e invece il mondo arabo sunnita quello sempre incazzato sta dal Medio Oriente e arriva sino all'Ira e all'Iran va bene e allora siccome la nazione guida del mondo arabo uscita quello sempre incazzato sarebbe l'Iran l'Iran però è rimasto sconvolto è rimasto sconvolto l'Iran è perché l'Iran di Ahmadinejad mondo uscita sempre incazzato l'Iran aveva in casa i giovani turbolenti anzi sono stati loro a cominciare perché uno può essere un paese sciita e moralista quanto ti pare ma se hai giovani che a 14 o 15 anni hanno la fase della pubertà ci siamo passati tutti per la fase della pubertà e gli metti in mano il computer il pc e ti vedono i filmini porno e lì non possono fare niente gli accidenti quanto stanno bene in America vedi che succede in America quanto c'è sta bene che dice grande Satana ma quanto se sta bene dicono i giovani con grande Satana eccedenti e allora ci hanno provato tante volte i giovani in Soggele perché sono tanti in Iran i giovani tanti come in tutti questi paesi sono tanti 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 giovani capito e sono loro che te fanno la rivoluzione mica te la fanno quelli di 45 anni ormai si sono calmati capito i giovani sono effervescenti la rivoluzione è effervescenza vedete la coerenza tutto insieme no e lì ci sono sempre riusciti i governanti dell'Iran sciita sciiti sono più cazzati qua la mattina già lì con quei paci paci motocicletta manganello ma di quelle manganellate e poi sei pure pagato bene e passi pure per difensore della morale e i giovani non ne vogliono sapere e hanno dovuto fino alla testa per due volte perché guarda tu guarda tu guarda tu tutte le volte che in Iran e sono già due o tre volte sono già due o tre anni che i giovani sorgono in Iran sarcasino non c'è mica andato a bombardare la mattina vergogna 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 anche per voi che non le fate queste considerazioni o vergogna per chi di voi non ha mai fatto queste considerazioni oh quanto è stata in effervescenza la gioventù italiana per anni manganellata in continuazione da in carcere mettevano in carcere pure le guide spirituali si ribellavano alla morale sciita mica c'è andato Sarkozy mica l'ha fatto il volentoroso Sarkozy mica è andato a bombardare la mattina perché vergogna 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 e allora adesso lì sono mutoliti perché hanno detto qui Ahmadinejad Ahmadinejad Hath Company hanno detto ma come e noi pensavamo che erano qua erano solo i nostri giovani che si rivoltavano contro di noi cioè contro il nostro potere invece là nel mondo nel mondo sunnita codereggio i giovani si stanno a ribellare tutti e vincano vincano pure e allora Ahmadinejad non sa più che dire l'unica cosa che ha saputo fare Ahmadinejad è quello di aver mandato due navi e anche qua chissà perché non ne parla più nessuno di questi due navi questi due navi sono passati per il canale di Suez e tutti i giornali hanno detto e ma ma non si capisce per quale motivo i nuovi governanti dell'Egitto hanno dato facoltà a questi due navi iraniane di passare attraverso il canale di Suez e di andare a collocarsi lì all'altezza del Libano dalle parti dei paraggi dicono i genovesi nei paraggi israeli e sì Mubarak non l'aveva mai consentito questo agli iraniani il fatto è che c'è un trattato internazionale mi pare del 1888 89 quando ancora c'era l'impero ottomano perché l'impero ottomano anche se grande e malato aveva la sovranità sul canale di Suez l'impero ottomano fece un accordo con il quale l'Egitto un accordo internazionale con l'Egitto era obbligato a farle transitare tutte le navi tranne le navi dei paesi che avessero dichiarato guerra all'Egitto e allora i militari che sono adesso al potere dopo Mubarak sono stati vincolati a questo trattato internazionale non le facciamo passare le navi perché c'è questo trattato internazionale e noi siamo obbligati a farle passare avete visto cari ragazzi che è cascato Mubarak e che in Egitto i poveri sono rimasti i poveri avete visto c'è mica è stata la distribuzione dei pesci del pane dei pesci stanno militari a potere avete visto vi hanno forse detto qualcuno che hanno fatto la ripartizione delle ricchezze in Egitto dopo aver cacciato tutto il cattivo Mubarak e l'hanno detto fatemelo pervenire un link dove qualche attiva dove si scrive che dopo aver cacciato Mubarak i giovani hanno avuto quello che volevano cioè la partecipazione alle ricchezze fatemelo venire vedere voi va bene fatemelo vedere e anche lì con Marocco appena lì è appena lì è cascato appena lì ma la musica cioè è cascato il direttore l'orchestra ma gli orquestano sono gli stessi capito cari amici la rivoluzione volevo una rivoluzione li mettete cari te fratelli poi io ho detto che si sono dimenticato di francesi mentre c'era la quarta parolina che sarebbe felicité e felicité l'hanno intuito anche se erano illuministi razionalisti grandiosi non capivano che non si poteva mettere la parolina felicité è stata un'autocensura ma è giustificato avete visto i giovani egitto egitto sono poveri come prima non lo sapete hanno fatto cadere il tiranno Mubarak ma sono poveri come prima poveri come prima magari sono anche più poveri di prima perché è stato un bel casino hanno distrutto un po' di roba lo Stato deve spendere i soldi per rimettere a posto tutto quello che è stato distrutto quindi lo Stato ci hanno meno soldi di prima allora la mattina c'è silenzio assordante è per forza è per forza è perché adesso si trovano tutto il mondo sunnita quello votereccio quello che vuole le donnine che ballano con le gambe nude delle donnine i filmetti porno e tutto il mondo sunnita appunto quello lì tanto i giovani stanno facendo la rivoluzione che poi la distribuzione della ricchezza cambia o non cambia conta poco perché a mattina dice vabbè ma io non voglio che facciano a me i miei giovani facciano a me quello che i giovani sunniti hanno fatto ai loro capi io voglio star al potere dice a mattina eppure le altre le grandi guide spirituali vogliono star al potere eh d'accordo? quindi si trova lì spiazzato spiazzato cioè il paese guida dell'islamismo sciita che ripeto è l'islamismo sempre incazzato il paese guida dell'islamismo sciita è lì attonito attonito non capisce più niente ma com'è? ma che? si sono rivoltati tutti i giovani e allora adesso i giovani iraniani dicono quelli che stanno sotto di noi allora adesso prendono di nuovo la forza e se prendono di nuovo la forza i giovani in Iran copiando dai giovani sunniti che ci sono riusciti dappertutto a capovolgere le situazioni di potere non economiche di potere e noi abbiamo paura che qua succeda la stessa cosa a Teheran e dopo che a Teheran Ahmadinejad ha visto quello che ha fatto Sarkozy e siccome la logica è logica dappertutto eh Ahmadinejad dice ma se Sarkozy ha mandato i suoi mirage a bombardare Gandalfi perché la meglio gioventù libica è in sorta con tutti l'anno e Sarkozy è capace di fare un'altra coalizione dei paesi volenterosi e di mandare i suoi mirage a bombardare Teheran dove ci sono io Ahmadinejad ebbene se no non sarebbe coerente Sarkozy capito non si può dividere l'umanità tra figli e figli altri fare un'azione un'azione umanitaria a favore dei ribelli libici non fare un'analoga azione umanitaria in favore dei ribelli iraniani mi capite non mi capite giovani amici mi capite non mi capite è tutto lì che trema hanno paura di Sarkozy Sarkozy oppure stavolta l'iniziativa la prende la Gran Bretagna stavolta potrebbe prendere la Berlusconi in iniziativa dice l'ha fatto Sarkozy con Gaddafi e adesso sono io Berlusconi che prendo l'iniziativa contro come si chiama la Ahmadinejad e io voglio vedere se non mi vengono dietro Francia Inghilterra magari pure Obama che mi dà una certa copertura ideologica ah che bella rivincita che sarebbe caro Premier che bella rivincita che sarebbe per l'Italia se adesso che si ribella la gioventù riprende la ribellione la gioventù iraniana cita cita tu Premier mandassi i nostri aerei per primo però per sparare per primo contro i palazzi del potere a Teheran Dio che sorpresa che sarebbe per tutto il mondo e dai giovani iraniani tutti a paludire l'Italia Italia se Berlusconi Italia che Dio mio Dio mio se tutto quel che vedo fosse mio o fosse di mio zio e mio zio crepasse e tutto mi lasciasse ah adesso presto anche a Teher ritorna la ribellione dei giovani i ribelli e questa volta l'Occidente sarà costretto a fare nei confronti dei ribelli iraniani la stessa cosa che sta facendo nei confronti dei ribelli libici cioè un intervento umanitario a suon di di missili un intervento umanitario a suon di missili e questo si aspetta madine e per questo c'è il silenzio assortante in Iran e per forza e poi c'è l'ondata l'ondata della ribellione giovanile dell'islamismo moderato moderato goderezzo d'accordo? sull'ita e l'ondata adesso potrà volerci pure pure i paesi dell'islamismo cita quello sempre incazzato capito? e ci hanno paura e perché hanno visto come si sono mossi gli occidentali nei confronti dei giovani si sono mossi con i mirage a proteggere i giovani e dico adesso se riprendono forza i giovani qua in Iran e gli occidentali fanno la stessa cosa pure con noi perché un occidente non può mica fare figli e figliastri nei confronti delle azioni umanitarie no non è che puoi fare un'azione umanitaria in Libia e non farla in Iran capito? il silenzio assordante se la stanno facendo sotto in Iran capito? tutti zitti zitti e magari dicono sì sì quando dobbiamo sbrigarci possiamo andare avanti il nostro programma nucleare perché al più presto possibile diamo la notizia che abbiamo la bomba atomica e poi gli occidentali non ci vengono da noi a fare quello che stanno facendo in Libia gli occidentali mica sono andati a bombardare Vladimir Putin per la Cecenia perché c'è la bomba atomica Putin e così gli occidentali non vengono a bombardare noi di Teheran se abbiamo la bomba atomica e ci pensiamo noi schiacciarli giovani senza paura di miraggi francesi capito? Israele! allora innanzitutto c'è da dire che Israele non può che gioire di quello che sta avvenendo nel mondo islamico godereccio il mondo islamico godereccio il mondo islamico sunnita godereccio che lì che Israele è circondato dall'islamismo godereccio capito? Israele deve solo aspettare che venga rovesciata la classe dirigente di questo islamismo sunnita godereccio perché questo questo è islamismo sunnita godereccio a questo islamismo sunnita godereccio non mi frega un tubo un tubo sia di Israele che dei palestinesi già il godereccio per sua natura l'islam sunnita più mettici il pc con le tonine che ci hanno le gambe nude balle no in occidente cosa vorrebbe che gliene freghi se se ne fregavano prima di palestinesi e israeliani al punto che Arabia Saudita Giordania Emirati Arabi avevano detto a Israele patto un bel patto marzo dell'anno scorso marzo 2010 Israele quando vuoi bombardare l'Iran accomodati accomodati sui nostri spazi aerei così il tragitto è più corto d'accordo? e adesso questi adesso va ancora meglio per Israele ancora meglio perché più i giovani sono catturati dalle tonnine nude dalle tonnine nude dell'occidente e meno pensano alla povertà dei cosi dei palestinesi e meno pensano a prendersela con Israele e infatti i più incazzati di tutti in questo periodo sono proprio i palestinesi infatti vedete c'è il silenzio come si dice assordante dell'Iran Israele ma pure un silenzio assordante da parte dei palestinesi uè non c'è più nessuno che nelle piazze occidentali vada a manifestare per i palestinesi e dice si lì hanno ammazzato lì 7 ottobre ma questo sono fatti locali io parlo dei fatti generali della politica generale non esistono più i palestinesi avete visto? non esistono più i palestinesi ma non esistono più neanche gli israeliani sono spariti dalla faccia della terra sono spariti i palestinesi gli israeliani sono spariti dalla faccia della terra la differenza è questa che mentre a Teheran Ahmadinejad è andata compagnie dell'islamismo sciita in teppiccazzato se la stanno facendo scusate se la stanno facendo sotto perché dicono adesso i nostri giovani riprendono la ribellione che hanno fatto un anno due anni fa questa volta però noi dobbiamo stare attenti perché Sarkozy ci manda i suoi miraggi a bombardare Teheran oppure potrebbe essere signor Berlusconi a mandare gli aerei a Teheran d'accordo e beh l'occidente qualcosa deve fare lo sta facendo per la Libia lo deve fare pure per dire no e beh a te Ahmadinejad ce l'ha ce l'ha la sua la sua logica e invece noi israeli si decchi i baffi per la contentezza per la contentezza perché adesso l'islamismo sunnita che già ripeto era con il reccio di su è stato definitivamente conquistato dal grande satana occidentale poi magari gli assetti la ripartizione della ricchezza resterà come prima e peggio di prima ma gli aspetti formali occidentali cambiano mutano si butta giù Assad si butta giù il re della Giordania o lo si obbliga che so a passare le mani a un reggente ma adesso vediamo come va a finire l'Arabia Saudita vediamo cari amici e quindi l'israeli c'è tutto da guadagnarci con una un islamismo e godereccio 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 cari amici godereccio godereccio sunnita che adesso viene conquistato definitivamente alla causa del guerra occidentale l'israeli non può farci gaffare d'oro i palestinesi e vabbè facciano la pace con israeli i palestinesi i palestinesi mandino a quel paese a Madin e Jad riconoscono riconoscano il diritto all'esistenza dello stato di israeli e poi ce ne avranno dei soldi dopo i palestinesi che la comunità internazionale ha mandato tanti e tanti e tanti di quei soldi che se i palestinesi sopillati sopillati dalla vecchia classe dirigente i vari Assad che se non avessero utilizzati per comprare le armi oggi la palestina i palestinesi sarebbero lo stato più ricco del mondo sarebbero persino più ricchi della Svizzera che è ricca per le sue banche dove ci viene portato il denaro riciclato ecco cari amici perché stanno ziti israeli sta zitto perché si sta leccando i baffi per la contentezza e l'Iran sta zitto perché sta aspettando che si muova Sarkozy perché se Sarkozy si è mosso per la Libia contro il tiranno della Libia non si vede perché non si debba muovere contro i tiranni dell'Iran e beh chi è che stabilisce che uno è un tiranno in Libia lo stabiliscono i revoltosi e anche in Iran lo stabiliscono i giovani che si ribellano e allora tramite la stessa logica Sarkozy dopo che sarà finita la questione libica dovrà mandare Mirage a Teheran questo a Madrid a meno che non sia Berlusconi a precedere Sarkozy questa volta e tutto il mondo a parlare di Silvio Berlusconi e sì questo sarebbe veramente bello e quindi questo video cari amici mandatelo pure a come si chiama lì a Palazzo Chigi a Palazzo Chigi dite a Gianni Letta comunque dirà la segreteria il premier di guardarlo questo video perché appunto Serrafino Massoni dice che presto inizieranno le operazioni l'insurrezione tornerà l'insurrezione giovanile in Iran e a questo punto se non ci pensa Sarkozy a ripetere l'operazione libica contro Ahmadinejad e ci dovrà pensare Silvio Berlusconi va bene cari amici va bene spero di avere allietato questa mattinata domenicale cari mi raccomando però ricordatevi che ogni video implica sempre tanta meditazione io prima di fare un video ci penso al bar mentre mi fumo la sigaretta e passeggio su e giù davanti alla porta del bar capito ci penso tanto ci penso e prima di fare il commento cari bisogna ricordarlo tutto il video perché il video è come un mosaico non ci si deve fermare sul tassello no no bisogna fermarsi sul mosaico il giudizio va dato prima sul mosaico nella sua interezza e poi magari ci si sofferma anche su un singolo tassello va bene cari amici avete capito come stanno le cose relativamente al silenzio assordante di israele e iran va bene cari amici grazie a tutti voi e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni